Dal modellino del Pegaso, l'elicottero è utilizzato dalla regione toscana per il trasporto di emergenza al suo ultimo lavoro, un omaggio al ragazzo di campagna, il celebre film che vede il protagonista Renato Pozzetto. Sono infatti i mattoncini Lego, la grande passione di Abramo Foggi, a retino di Castelfranco Piandisco, volontario della misericordia. Devo dire che sono sempre stato un appassionato Lego. Quello che mi ha portato al successo è sempre, decidiamo, Grosseto, l'elicottero V139. Ha fatto successo perché nel 2014 io l'ho inaugurato a Grosseto, con il dottor Giovanni Sbrana, e ha fatto subito scalpore perché io sono dipendente della misericordia dei Piandisco e allora ha fatto subito sulle giornali nazionali dei misericordi. Dopo tre anni ho avuto l'onore che il dottor Massimo mandò, mi ha portato a Grosseto nuovamente con l'elicottero, ora lo vedete rimodificato, per l'inaugurazione dei visori notturni. È stato un successo enorme. Negli ultimi anni Abramo, ovviamente con mattoncini Lego, ha riprodotto i set di vari film. Ho cominciato a realizzare scene di film per un'esigenza personale, perché doveva essere l'unico in Italia che realizza queste cose. Per gioco ho fatto amici miei, dopo successivamente ho fatto il ciclone, inaugurato a Figline Valdarno, da Gerry Potenza e Sergio Forconi. Quest'anno, a fine agosto, ho avuto il piacere a Terrenia di portare il mio lavoro e che l'ha commentato Leonardo Peraccioni. Ti devo dire una grande soddisfazione. Abramo Foggi, ho visto la tua opera d'arte meravigliosa, bravissimo, fantastica. Una cosa davvero bella, più bella di Lego che nel film. Senti che ti dio. Gli altri lavori che sto realizzando sono in ultima azione di Io speriamo e me la cavo e dovrebbe andare il prossimo anno diretta a Rai, perché tutti quei ragazzi che ora hanno la mia età hanno fatto un cortometraggio e faranno una proiezione insieme al mio lavoro. E finisco il lavoro facendo il Marchese Grillo. Il mondo delle Lego sta riscuotendo sempre più successo anche tra i giovani. Perché? Allora, prima di tutto perché diciamo che ci aiuta a creare un mondo creativo. E al mondo d'oggi la creazione non esiste più, malgrado il nostro telefonino, e non si crea più. Infatti Lego ha avuto un incremento nell'area Covid del 30%, perché le persone vogliono sempre più costruire, hanno più inventiva.